L'etica come soluzione ai problemi è il tema al centro dell'incontro organizzato da Intesa San Paolo a Napoli nel suo museo delle gallerie d'Italia in via Toledo. L'evento ha visto alternarsi momenti di riflessione alla presentazione di casi concreti da parte di soggetti del terzo settore impegnati a ricostruire il senso di comunità attraverso l'etica e la legalità per uno sviluppo economico sostenibile e inclusivo. Andrea Lecce responsabile direzione Impact Intesa San Paolo. Siamo fortemente impegnati abbiamo persone sul territorio che hanno l'obiettivo proprio di aiutare le organizzazioni del terzo settore eroghiamo mediamente 300 milioni di finanziamenti ogni anno ed effettivamente molte delle persone sono impegnate non solo nell'attività bancaria in senso stretto ma proprio nell'offrire consulenza e supporto. L'etica efficace è un concetto potente e innovativo perché contribuisce concretamente a garantire occupazione, a delegittimare la criminalità, a costruire un solido sviluppo sostenibile. Essa permea o dovrebbe permeare l'economia, la politica, la scuola, i media, l'amministrazione pubblica e naturalmente il terzo settore, il non profit e il volontariato. Gian Maria Gross Pietro, presidente di Intesa San Paolo. Non basta lottare contro la criminalità, bisogna anche fare in modo che l'economia possa svilupparsi in direzione degli obiettivi etici e non soltanto degli obiettivi finanziari e su questo noi abbiamo delle nostre finalità. Noi abbiamo degli obiettivi di tipo sociale, li enunciamo, li comunichiamo, li rendicontiamo e cioè facciamo sapere ai nostri azionisti e a tutti gli stakeholder quanto abbiamo fatto nelle direzioni che ci eravamo proposti e che avevamo comunicato.